Un progetto che ha aperto menti e cuori, un progetto che si chiama Io Rispetto, che ha coinvolto centinaio di bambini nelle scuole italiane, dando loro la possibilità di far sentire la voce sul concetto di sostenibilità per le aziende. In un mondo che spesso sembra guidato da interessi e secondi fini, abbiamo deciso di ascoltare le voci innocenti e sincere dei bambini di elementari e medie. Senza limitazioni, senza pregiudizi, abbiamo creato uno spazio in cui potessero esprimere le loro idee, i loro sogni e le loro speranze per un futuro migliore. E le risposte che sono emerse sono state più di quanto avessimo usato immaginare. Emozionanti, innovative, ricche di saggezza, i bambini hanno offerto prospettive uniche sulle pratiche sostenibili che le aziende dovrebbero adottare. Hanno parlato di rispetto per la natura, di uguaglianza, di inclusione, di responsabilità sociale. La partecipazione è stata travolgente. Manager e imprenditori si sono riuniti per ascoltare, per apprendere e per essere ispirati da queste giovani menti e insieme abbiamo deciso di trasformare queste idee in azioni concrete. Da questo lavoro nascerà un disciplinare, un insieme di linee guida che le aziende volontarie potranno adottare per ottenere il marchio Io Rispetto. Un riconoscimento tangibile per l'impegno verso la sostenibilità e il rispetto. E la premiazione di questo monarchio si terrà in un luogo simbolico, un luogo che rappresenta l'universalità dei valori, il Vaticano. Insieme, bambini e adulti, stiamo costruendo un futuro sostenibile, un futuro in cui il rispetto per la natura, per gli altri e per noi stessi è al centro delle nostre azioni. Uniscite a noi in questa straordinaria avventura verso un mondo migliore, perché insieme possiamo fare la differenza. Io rispetto la voce dei bambini per un futuro sostenibile.